Ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio agli aggiornamenti sulla giornata odierna. Sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza nei confronti dell'ex presidente Gianni Zonin, dell'ex DG Samuele Sorato, oltre che di Giuseppe Zigliotto, Andrea Piazzetta e Massimiliano Pellegrini dei sequestri conservativi disposti dal Tribunale nell'ambito dell'inchiesta sulla crack della Popolare di Vicenza. Si tratta di importi di circa 350 mila euro per ciascuno dei cinque imputati, dunque per un totale di 1.750.000 euro. La Guardia di Finanza aveva accertato una serie di azioni di trasferimento e dismissioni patrimoniali da parte degli imputati e per la Procura c'era quindi il rischio che mancassero o si disperdessero le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di altre somme dovute all'erario. Quanto alla possibilità che parte di questa cifra sia utilizzata anche per risarcire i correntisti e gli azionisti dell'ex Banca Popolare di Vicenza, si tratta comunque di una parte residuale rispetto all'importo del danno. Adesso ritorniamo a parlare dell'omicidio avvenuto nei giorni scorsi a Venezia. Parla il testimone. Il secondo proiettile era per me. Parla e dice queste parole il testimone oculare dell'omicidio di Ivano Gritti, il 47enne veneziano ucciso il 9 gennaio scorso e del quale ieri si sono celebrati i funerali. Il delitto era avvenuto in Calle delle Chiovere a Canareggio. Ciro Esposito, 49 anni di origini napoletane, reo confesso, aveva sparato due colpi di pistola attraverso il portoncino di ingresso dell'alloggio Hatter che aveva occupato da qualche mese. Sapevo benissimo che eravamo noi, ha spiegato il testimone. A un certo punto, mentre bussavamo, lui ha urlato basta Ivano e ha premuto il grilletto. L'arrestato ora in carcere ha invece raccontato agli inquirenti che dopo aver sentito bussare, preso dal panico per la possibile presenza dei ladri, avrebbe preso la pistola che deteneva in casa e avrebbe sparato. Non è così, controbatte il testimone. Ha urlato ancora e ha premuto il grilletto una seconda volta e quel proiettile era per me. E adesso ci occupiamo di un'altra vicenda, una vicenda che riguarda la città di Padova. Numerose amanti ma anche incontri di gruppo. E' inquietante ciò che emerge dalle indagini sull'ex parroco Don Contin. Sentiamo. Conclusa l'inchiesta a carico dell'ex parroco padovano, protagonista di orge e violenze. Il PM Roberto Piccione ha chiuso l'iter con l'imputazione di violenza privata e minacce aggravate. Ora la macchina della giustizia proseguirà attraverso il suo percorso. Quello che è emerso in un anno di indagini è davvero inquietante. Un uomo di chiesa, un uomo sfrontato, senza rispetto per il crocifisso e per i parrocchiani che fedeli lo seguivano. Un uomo che non aveva nemmeno rispetto delle sue tante amanti, che picchiava con regolarità e violenza. Il quadro della situazione è raccapricciante. L'ex parroco in canonica aveva film pornografici, molti girati anche in quella stanza. C'erano giochi tutt'altro che innocenti e lì, in quelle quattro mura, incontrava le amanti. Ma non solo. Gli incontri avvenivano anche in gruppo. Restiamo ancora a Padova. Una nuova tecnica per rubare nei bar e nelle tabaccherie è quella di strisciare sul pavimento tenendosi al di sotto dei sensori ad infrarossi. Consentiva ad alcuni ladri di portare a termine furti, in particolare in bar e tabaccherie, senza far scattare i sistemi d'allarme. Lo hanno scoperto i carabinieri di Padova, che oggi hanno arrestato due persone specializzate nello scassinare macchine, cambia soldi e slot machine. Gli arrestati sono due giovani uomini pregiudicati di origine rumena, uno residente in provincia di Venezia e l'altro in provincia di Padova. Sarebbero numerosi i colpi attribuiti ai due arrestati. Ora, al vaglio degli investigatori, ci sono altri furti compiuti con la stessa tecnica in zone diverse. Sette cittadini iraniani nascosti all'interno del cassone di un camion arrivato dalla Serbia fermo presso una ditta di import-export a Padova sono stati scoperti da una pattuglia della polizia. Il camionista, non appena arrivato davanti all'azienda pronto per lo scarico, ha sentito bussare dal rimorchio e ha chiamato il 113. Le agenti hanno verificato il cassone, era sigillato, ma il telo era stato tranciato. Nell'abitacolo erano presenti un uomo, tre donne e tre bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia, a cui gli operatori hanno dato i primi soccorsi in attesa dell'ambulanza. Tutti erano comunque in buone condizioni fisiche. È emerso che l'autista del camion, un cittadino serbo, ignaro della presenza di migranti stranieri, era partito dalla Serbia lunedì scorso e aveva effettuato un viaggio di due giorni per arrivare a Padova. Il gruppo era partito dall'Iran, aveva versato una somma di 20 mila euro a uno straniero per attraversare la Slovenia. Nelle vicinanze del confine con l'Italia, gli iraniani sono stati fatti salire dentro al cassone del camion dopo aver aperto il telone che poi è stato richiuso. Il loro scopo era quello di raggiungere la Germania dove vive un parente. I sette, al termine delle cure mediche, sono stati portati in questura, rifocillati e i quattro maggiorenni sottoposti a identificazione. Attenzione, se avete una casella di posta elettronica certificata, una casella PEC, è importante controllarla spesso. Da febbraio la notifica delle multe automobilistiche avverrà con mail certificata. Rivoluzione in arrivo per gli automobilisti. A febbraio le notifiche delle multe avverranno prioritariamente tramite la casella di posta elettronica certificata, PEC. Gli automobilistiche ne possiedono una, infatti, riceveranno la sanzione dell'infrazione al codice della strada per mail. La novità è appena diventata operativa a seguito dell'emanazione da parte del Ministero dell'Interno del decreto e della relativa pubblicazione in gazzetta ufficiale. In caso di contestazione immediata della sanzione, sarà lo stesso conducente a fornire alle forze dell'ordine l'indirizzo della casella PEC. Nelle altre situazioni, l'indirizzo del proprietario del veicolo sarà individuato dalle autorità ricorrendo ai pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche. Per quello che riguarda i termini di pagamento e impugnazione legati alla notifica, è bene precisare che questa si intenderà spedita nel momento in cui, chiarisce il decreto, viene generata la ricevuta di accettazione e si terrà notificata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC. Da notare che entrambi i messaggi vengono generati in automatico, indipendentemente quindi dal fatto che la mail sia stata vista o letta dall'interessato. La comunicazione elettronica dovrà avere come oggetto la dicitura atto amministrativo relativo a una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada e dovrà includere come allegato la copia del verbale sottoscritto con firma digitale e la relazione di notifica. Nel caso di impossibilità di invio tramite PEC per assenza di recapito digitale, per colpa del destinatario o se questa risultasse scaduta, l'amministrazione utilizzerà il metodo postale, quello adoperato fino ad oggi, aggiungendone i relativi costi di notifica alla sanzione. Ancora Padova in primo piano. Un tunisino di 35 anni ritenuto radicalizzato al mondo giadista è stato espulso dal territorio italiano dopo che le informazioni raccolte dalla Digos di Padova avevano evidenziato la sua tendenza al proselitismo. L'uomo arrestato nel 2013 per droga era attualmente detenuto al Due Palazzi. L'espulsione giudiziaria è stata eseguita ieri dalla Polizia di Stato. Già da gennaio 2015 il 35enne era stato inserito nell'elenco dei detenuti da attenzionare. Nella sua cella erano stati trovati, tra gli altri, alcuni disegni di una collezione di armi e uno raffigurante la Torre Eiffel con un angelo tipico simbolo giadista della morte, un angelo sulla sommità. Anche quest'anno l'influenza ha messo in difficoltà gli approvvigionamenti di sangue in diverse regioni italiane con punte di oltre 1300 sacche mancanti che hanno portato a rinviare gli interventi non urgenti in molti ospedali italiani. Emerge dai dati diffusi dal Centro Nazionale Sangue e Istituto Superiore Nazionale della Sanità che alla Civis, il coordinamento delle associazioni nazionali dei donatori di sangue, lancia la proposta di estendere l'offerta del vaccino anche a chi dona. E rimaniamo sull'argomento influenza, perché in Veneto sono 140.000 le persone colpite dal virus, dal suo primo caso nel mese di ottobre. Purtroppo le notizie di oggi comunicano che ci sono anche tre vittime in Veneto legate alle complicanze da virus influenzale. Allora sentiamo questi dati che sono stati diffusi oggi dall'assessore alla sanità. Sono 140.500 i Veneti colpiti finora dall'influenza stagionale da quando, a ottobre scorso, il virus ha fatto la sua comparsa. Nella settimana dall'8 al 14 gennaio in Veneto i casi sono aumentati, ma la quota rimane bassa rispetto al resto d'Italia. I dati sono stati forniti ed elaborati dalla Direzione Prevenzione della Regione e sono stati diffusi dall'assessore alla sanità. Tre persone sono decedute per complicanze da influenza. Questo si è verificato nelle Uls Pedemontana, Berica ed Eugania. Molte sono le segnalazioni di complicanze legate all'influenza, delle quali 16 sono le forme gravi, come da definizione della specifica circolare ministeriale, con 14 ricoveri in terapia intensiva. Il 75% di questi casi riguardano maschi e la media d'età complessiva è 55 anni. Quasi tutti presentavano patologie pregresse. Secondo le valutazioni dei nostri esperti della prevenzione, fa notare l'assessore alla sanità, la curva di incidenza regionale ha superato i valori massimi delle ultime quattro stagioni, ma è ancora presto per definire se si è giunti al picco massimo oppure se si arriverà ad una stagione con valori molto elevati, come indicato dall'andamento nazionale. È stato individuato questa mattina nel gruppo del Lago Rai, nel Trentino Orientale, il corpo senza vita di uno sci alpinista che era scomparso ieri mentre era impegnato in un'escursione. La vittima è Stefano Mottes, 48 anni di Feltre. L'allarme era scattato in serata quando i compagni di escursione, appartenenti ad un'associazione sportiva Feltrina, non lo hanno visto tornare a valle. Sospese le ricerche nella notte, gli uomini del soccorso alpino, assieme ai vigili del fuoco e guardia di finanza, hanno ripreso a cercarlo anche utilizzando alcuni droni. Questa mattina il ritrovamento del corpo senza vita dello sci alpinista è stato ritrovato in fondo ad un canalone. La vicenda del capotreno che in Veneto è stato condannato per aver fatto scendere dal convoglio un passeggero senza biglietto continua a far discutere. Oggi vi è stato anche l'intervento di Trenitalia che ha diramato un comunicato, esprimendo piena vicinanza e solidarietà a tutto il personale di bordo, ultimamente chiamato a svolgere in condizioni spesso difficili un'attività estremamente delicata e complessa per garantire sempre l'incolumità dei viaggiatori. Trenitalia conferma inoltre la massima fiducia e rispetto nell'operato dell'autorità giudiziaria. E adesso come ogni venerdì è arrivato un momento importante, quello dedicato all'approfondimento e allora sentiamo subito Marisa Sottovia, esperta di storia. Ben ritrovati con la storia, di recente abbiamo parlato del Museo Corrè di Venezia e in particolare dell'appartamento di Sissi, imperatrice d'Austria. E allora conosciamo questa imperatrice che il suo vero nome era Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, nome della dinastia di Baviera. Nacque nel dicembre del 1837 a Monaco di Baviera, quarta di dieci figli, fu imperatrice d'Austria, regina apostolica d'Ungheria, regina di Bohemia e della Croazia e nonché consorte dell'imperatore Francesco Giuseppe. Trascorse la sua infanzia a Monaco, nella natura, la natura che amava moltissimo e che rimase sempre legata. Nelle famiglie di alto rango era prassi combinare o concordare i matrimoni in funzione politica, quello che successe anche in questa casata. La sorella maggiore, di nome Elena, era destinata a diventare sposa del futuro erede dell'impero. Si organizzò una festa, a questa festa però partecipò anche Sissi. Il giovane Francesco Giuseppe, quando si accorse di Sissi, ne rimase colpito e affascinato e chiese la mano di Sissi e non più quella di Elena. Si formò così una coppia eccezionale, una delle più potenti d'Europa e che appunto ha lasciato un'eredità enorme in senso storico. Sissi lascia la Baviera nell'aprile del 1854, si viene trasferita alla corte di Vienna e ci sarà un matrimonio molto fastoso e molto importante. Però ben presto si accorge della rigida vita della corte di Vienna accanto a sé ha sempre la suocera Sofia che la abitua, la educa alla vita istituzionale dell'impero ma non solo. La suocera si occupa anche dell'educazione dei figli delle due bambine e del terzo genito Rodolfo che sarebbe destinato a diventare l'erede ma che ciò non avverrà mai perché come sappiamo morirà a suicida a Mayerling. Elisabetta amava viaggiare con il marito, stare vicino al marito, ma l'imperatore per problemi ed impegni istituzionali non poteva accontentarla. Nel 1867 viene incoronata in Ungheria, qui vi abita per più di qualche tempo e avrà la quarta figlia Maria Valeria. Era soggetta a delle malattie Elisabetta, malattie polmonari, qualcuno dice anche affetta da anoressia. Comunque non si è mai saputo esattamente l'origine di queste malattie ma qualcuno dice che il malessere maggiore era la vita rigida di corte di Vienna e la nostalgia della Baviera che le ricordava l'infanzia trascorsa appunto nella natura e la spensieratezza appunto della giovinezza. Era ossessionata dalla bellezza, coltivava l'idea di rimanere sempre giovane e per questo motivo si sottoponeva a cure dimagranti, a diete continue e faceva tantissima attività fisica. Era appassionata di viaggi, andava a Corfu, Portogallo, Venezia e quindi conclude poi un soggiorno a Ginevra. Siamo nel 1898 purtroppo qui incontra la morte perché c'è un attentato, un anarchico italiano, Luigi Licheni, che le procura una ferita interna, un'emoragia interna e morirà a 60 anni. Si conclude così la vita di questa donna fortunata, apparentemente felice, ma turbata da quelli che erano i schemi, la vita, i rapporti nella famiglia e anche istituzionali, che il ruolo così prestigioso comportava e che forse non sempre ha saputo conciliare. Grazie a Marisa Sottovia, esperta di storia. Vi ricordo che tutti i suoi approfondimenti sono disponibili all'interno del nostro sito internet www.telecittà.tv oppure sono visibili scaricando la nostra app dall'app store del vostro telefonino. Ora uno sguardo al nostro clima per i prossimi giorni. Fino a lunedì il tempo sulla regione sarà influenzato da un'ampia area depressionaria presente sull'Europa settentrionale. Transiteranno sull'arco alpino alcuni modesti impulsi perturbati che determineranno qualche fase di variabilità con qualche debole precipitazione specie sulle dolomiti e temperature prossime o leggermente al di sotto della norma. Da martedì il tempo diverrà più stabile e meno freddo per l'espansione di un promontorio anticiclonico di origine mediterranea. È tutto per questo spazio dedicato all'informazione. Grazie per l'attenzione. Vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci. Grazie per l'attenzione.